Durante la giornata di ieri Sfera e Basta con messo un errore clamoroso Ha infatti pubblicato su suo profilo un post che è stato rimosso pochissimi minuti dopo Per la precisione un minuto e qualche secondo Ma cosa ritraeva questo post di così tanto particolare da farlo rimuovere subito? Questo post che io ovviamente ho prontamente scrinnato Ritrae Sfera e Basta seduto con un microfono Ma non è tanto la foto in sé se è reclatante quanto la descrizione Dove Sfera va ad annunciare un featuring con Drake Andandola addirittura a taggare Ora era da un po' di tempo che si pociperava di questo featuring con Drake Ma sicuramente questo post non è stato altro che la conferma Dove comunque ha raccolto sbagliati like da personaggi come Rush, Drifold e altri E quindi non può comprovare questa cosa Sul motivo per cui il post è stato rimosso Potrebbe essere perché la data in cui andava pubblicato era un'altra Oppure addirittura per hype, nel senso Sfera pubblica questa cosa Cercando di far parlare di sé per questo motivo E appunto aumentando l'hype riguardo questo featuring C'è da dire che da quando sono seguiti su Instagram Il featuring con Drake era praticamente già confermato Perché da fronte ufficiale vi dico che c'era già un accordo Questo featuring si chiamerà Worldwide dalla descrizione del post E molto probabilmente potrebbe uscire nei prossimi giorni Chi lo sa magari dopo la mezzanotte di giovedì prossimo Con le classiche uscite settimanali di Spotify Quindi non aggiungo altro Stiamo a vedere Sfera se si esprimerà nuovamente riguardo questa cosa Visto che per adesso non sembrerebbe essersi pronunciato più di tanto Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Grazie mille Grazie mille Grazie mille